e il bicchiere di vino come avrebbe amato di fare anche Totti che era un gran uomo di mondo. Io inviterei il sindaco di Sassari, Nanni Campus, eccolo qua, a darci un saluto. Prego sindaco, se vuole le do anche questi fida se le do questo. Grazie, grazie, buonasera a tutti, un saluto diciamo intimo, è davvero un colpo d'occhio che non ci fa piacere, non ci fa piacere la vostra presenza, ci fa piacere tantissimo. Continuiamo a soffrire nel vedere i posti vuoti perché sappiamo le motivazioni che portano a questa difficoltà di poter riprendere la nostra vita così come l'abbiamo lasciata a gennaio di quest'anno. Io ho il compito piacevolissimo di portarvi i saluti dall'amministrazione e lo faccio innanzitutto con i ringraziamenti, i ringraziamenti a voi che siete qui presenti ma soprattutto i ringraziamenti ai relatori che hanno accettato di arricchire con la loro presenza questa seconda giornata però quella forse più intensa, più pregnante, più penetrante in ricordo appunto dedicata in ricordo a un nostro concittadino come l'onorevole dottor Salvatore Mannuzzo che è venuto a mancare un anno fa. Ma il ringraziamento particolare davvero consentitemi con tutto il cuore di farlo all'ottoressa Cugia perché lei ha consentito che questo avvenisse. Lei l'ha addirittura preconizzato perché nel momento in cui appunto venne a mancare il dottor Mannuzzo si discusse e ci fu anche qualche polemica forse eccessiva, inutile, sulla necessità di avviare un doveroso da parte della città ricordo e elogio della sua figura. E fu allora che la dottoressa Cugia valutò la possibilità, quasi una scommessa devo dire allora, di poter scommettere sulla bontà della figura e dell'opera dello scrittore Mannuzzo per poter partecipare a una competizione a carattere nazionale che oggi ci consente di poter appunto fare queste due giornate, di poter parlare del suo libro e poi del film che da quel libro è nato appunto attraverso un premio che è stato riconosciuto a Sassari, ma ripeto, non certamente per meriti della città, ma per meriti sicuramente dell'autore della sua vita, della sua carriera, della sua qualità, ma anche di chi ha saputo gestire in questi anni in maniera così brillante la biblioteca e che ha portato anche per questo biennio, lo vogliamo ricordare, a Sassari ad essere riconosciuta dal MIBAC come città che legge. Per quanto riguarda invece l'autore, personalmente ho avuto poca dimistichezza con il dottor Mannuzzo, chiaramente per problemi di età, lui ha fatto politica quando io ero ancora dedicato soprattutto a costruirmi come professione e come carriera universitaria e infatti credo che i rapporti più frequenti che ha avuto con il dottor Mannuzzo sono stati in aereo, nel senso che mentre lui portava a compimento la sua prima legislatura che era la sesta, quindi negli anni 76, 77, 78, 79, io viaggiavo negli stessi giorni per andare a Roma perché io frequentavo la Cattolica dove mi specializzavo in chirurgia plastica e lui si recava in Parlamento e quindi avevamo questi incontri, lui non mi conosceva, io sapevo chi era ma lui chiaramente non mi conosceva, avevo questi incontri così casuali, chiaramente ho conosciuto lui come autore e parlando con un altro nostro illustre concittadino, il baritmo che ci ha regalato quella meravigliosa giornata che è l'ente concerti e qui ringrazio ancora il dottor Mattone a nome in quanto rappresenta in questa settimana anche l'ente concerti, ebbene si discuteva del fatto che ad esempio ci fossero, ci siano anche in questa città molti medici che fanno musica, però allo stesso tempo mi viene in mente che ci sono moltissimi magistrati che fanno gli scrittori, a iniziare dal nostro procuratore capo, il dottor Gianni Caria, che scrive così come hanno scritto dei magistrati importanti come abbiamo conosciuto da Caro Figlio, a Decataldo, a Cacopardo, indubbiamente c'è soprattutto nello scrivere poi libri gialli o comunque noir o comunque che parlano anche di crimini e c'è tutta una letteratura di contorno che dice che si fa e che lo facciano perché intimamente connessi con la loro professione. È sicuramente possibile, quello che è certo è che il dottor Manuzzi ha lasciato a questa città l'impronta della sua presenza, l'impronta della sua carriera sia come magistrato che come politico che come scrittore e come scrittore in particolare l'ha lasciato davvero a tutta la nostra cultura non solo sassanese, non solo sarda e non solo italiana. Ed è questo il motivo per cui oggi la sua città gli rende omaggio, doveroso omaggio, ad una figura che come tante altre, lasciatemelo dire, di questa città hanno davvero lasciato il segno nella storia regionale e nazionale e che dovremo imparare a ricordarci noi stessi in maniera maggiore e quindi poterla poi valorizzare all'esterno. Quindi grazie della vostra presenza, ancora complimenti alla dottoressa Cugia, al professor Mattone che è stato comunque di supporto anche in questa attività e ai relatori che ci onorano della loro presenza. Grazie e buona serata a tutti. Grazie professor Campus, ancora vuole essere chiamato professore, no? Sì? Con quello che mi è costato. Allora sì professore. Invito Aldo Maria Morace e Vanessa Roggeni che vedo arrivata a conquistare la loro poltrona, visto che è un'entrata gli dovete fare un applauso perché altrimenti sembra brutto. Poi lancio una minaccia al cameraman, non farci venire il mal di mare, fermo con le inquadrature. Bravo, bravo, che tanto non è una diretta televisiva ma è una diretta Facebook e chi è connesso è felice. Grazie. Io adesso mi fido a lasciarvi. Ormai la dottoressa Cugia è la padrona del campo, più che complimenti non ha avuto. Allora io direi che adesso il professore Antonello Mattone si tiene un bel microfono e se lo gestisce come meglio crede. Grazie. Il 10 settembre dell'anno scorso moriva Sassari e Salvatore Mannuzzo. Oggi avrebbe compiuto 90 anni. E quindi è stato importante che il Comune, in particolare la Biblioteca Comunale, abbia voluto scegliere questa data per celebrarlo adeguatamente. Quindi io darei la parola alla dottoressa Cristina Cugia, già direttrice della Biblioteca Comunale, che ancora si occupa sempre di questa prestigiosa istituzione, che ci racconta com'è nata l'idea di proporre al Ministero dei Beni Culturali un'iniziativa di questo tipo e di vincere il primo premio con un relativo finanziamento di 10.000 euro. Eccomi. Buonasera a tutti. Sono veramente orgogliosa e vi ringrazio tantissimo tutti i presenti. Ci fa piacere, come mi associo al sindaco, ricordare oggi tutti insieme un grande scrittore, un grande magistrato, un uomo politico, un intellettuale prezioso per la città. Sì, io vi vorrei raccontare come nasce la storia, cioè come nasce l'idea della candidatura. Intanto il Ministero dei Beni Culturali bandiva lo scorso anno, nel mese di settembre, un premio nazionale, le parole e la città, destinato ai comuni che avessero già ottenuto il riconoscimento di città che legge. E il Comune di Sassari da anni ha questo riconoscimento che viene ribadito ogni biegno. Per ottenerlo è necessario dimostrare che ci sono delle attività che riguardano il libro e la lettura. E la nostra biblioteca lo è. La nostra biblioteca, ma non solo la biblioteca, tutte le iniziative che in città riguardano sia il libro che la lettura. Fatte anche con, ovviamente, altre associazioni, con i librai. È una città ricca di eventi. E quindi, nel mese di settembre, ahimè, come abbiamo detto, il 10 settembre dello scorso anno moriva Sassari, Salvatone Mannuzzo. Per commemorarlo, il Comune di Sassari e la Biblioteca Comunale hanno candidato la sua opera procedura, pubblicata da Einaudi nel 1988. L'hanno candidata al concorso nazionale che è promosso dal Ministero dei Beni Culturali che ha promosso l'iniziativa insieme al Centro per il Libro e la Lettura e all'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per opere di narrativa proposte dai sindaci di comuni italiani che avessero, ovviamente, la qualifica di città che legge. E nel mese di marzo di quest'anno è stata comunicata al Comune di Sassari l'assegnazione del Premio Nazionale Le Parole e la Città 2019 proprio grazie alla candidatura dell'opera procedura di Salvatore Mannuzzo. Lo staff professionale della biblioteca da me diretto che ha predisposto, proprio lo scorso anno nel mese di settembre, il progetto nella massima condivisione ha selezionato procedura come opera unica candidabile al Premio Nazionale Le Parole e la Città partendo proprio dall'idea che l'opera scelta abbia permesso a Sassari di realizzarsi da protagonista in luogo letterario. Leggerò ora una breve sintesi del progetto presentato. L'opera letteraria selezionata per la candidatura al Premio Le Parole e la Città è il romanzo Procedura di Salvatore Mannuzzo scrittore che come pochi altri ha narrato la Sardegna e Sassari la sua città riuscendo a farne un mondo altero unico e incommensurabile. nato nel 1930 e scomparso a 89 anni magistrato prima e poi deputato scrittore e poeta attraversa tutto il novecento in modo unico e prezioso proiettando nel futuro la Sardegna che tanto ha parlato nelle sue opere in modo tutto diverso da come l'esperienza letteraria storica e politica precedente e anche coeva ci ha consegnato e consegna. Lo scrittore è considerato assieme a Giulio Angioni e Sergio Azzeni uno dei capostipiti di una nouvelle vague letteraria chiamata nuova letteratura sarda particolarmente attiva tra novecento e duemila di rinomanza italiana ed europea. Della sua produzione letteraria hanno scritto con entusiasmo critici tra i più lontani come Geno Pampaloni e Goffredo Foffi. Procedura, il suo capolavoro consegnato alle sapienti mani di Natalia Ginzburg è denso di una prosa ipnotica e avvolgente un giallo sotto mentite spoglie in realtà una ricerca metafisica ben sottolineata dalla potente immagine magrettiana della copertina della prima edizione un attorcigliamento intorno all'impossibilità della verità alla soluzione nitida al successo della critica si accompagna il riconoscimento del pubblico e della società letteraria nel 1989 al romanzo è assegnato il premio Viareggio e il premio DC contemporaneamente è all'attenzione delle case editrici europee nel 2007 è stato inserito nel primo tesoro della lingua della letteratura italiana del novecento a curia di Tullio De Mauro al romanzo si ispira il regista Antonello Grimaldi per tranne il film Un delitto impossibile prodotto nel 2000 e girato a Sassari la vicenda narrata in procedura intreccia subito in modo inquietante uno dei delitti politici nazionali più terribili degli ultimi decenni a inizio il diciassette marzo del millenovecentosettantotto il giorno dopo il rapimento di Aldo Moro nella città in cui non è difficile riconoscere Sassari il giudice Valerio Garau mentre beve un caffè e scherza insieme all'amante al bar nel palazzo di giustizia cade a terra e muore fulminato come accerterà l'autopsia da un grano di cianuro contenuto in una capsula rossa e azzurra l'incarico di aprire l'istruttoria sulla sua morte è affidato non innocentemente a un giudice straniero dunque non sardo mandato in Sardegna per punizione come annota Natalia Ginzburg nella presentazione del romanzo il giudice protagonista che indaga sulla morte di un altro giudice e che si muove tra palazzi polverosi e villette in abbandono tra viali alberatti e strade rupestri non dimentica mai che la verità è introvabile anche quando sembra rivelarsi d'un tratto spoglia e semplice allo sguardo che l'ha inseguita introvabile perché sopra di essa passano le onde degli anni e del mare qui prende vita la Sassari di Mannuzzo mai nominata eppure riconoscibile sì nei dettagli di una topografia a volte inventata ma sempre precisa inconfondibile soprattutto quando si parla di ville liberticadenti abitate da testimoni attoniti pure conniventi del lento inesorabile degrado Sassari mai nominata eppure onnipresente con un protagonista che si aggira per la città percorsa dai passi e dagli occhi di un nio narrante che lei è geograficamente estraneo la città è un'invenzione del narratore fantasma di città costruzione fatta con nomi di luoghi che la rendono praticabile come un palcoscenico vero come un vero fondale il quadrato di piazza d'italia la geometria di via roma il palazzo di giustizia dal colonnato littorio la fila di macchine in viale umberto il muro del convento di san pietro il barocco di isadorno della chiesa del rosario i tigli di viale caprera una topografia onirica a seconda del gioco di una memoria diligente e infedele in un'intervista l'autore nello spiegare cosa significhi l'amalgama così avanzato tra indefinitezza dei luoghi e compiutezza dei dettagli risponde che ciò che lo fa scrivere è il rischio dell'atopia della perdita dei luoghi la cosa che davvero gli preme il logorio dei luoghi è la loro progressiva perdita a conclusione del convegno con anima a tempo viaggio nella scrittura di Salvatore Mannuzzo Università di Sassari 2004 così si esprimeva l'autore in particolare grazie alla città di Sassari scriverne è stata una prova di affetto perché in qualche modo io ne ho scritto alcuni dei suoi luoghi dove ho vissuto sono luoghi deputati dei miei libri li ho un po' pasticciati magari via le Caprera con i suoi tigli piazza d'armi con le sue querce via Sebastiano Satta dove negli anni trenta esisteva la casa della mia nonna paterna luoghi di Sassari che insieme ad altri scrivendo ho adoperato impropriamente con questa citazione ho voluto finire e abbiamo voluto finire il nostro progetto presentato al Ministero dei beni culturali e devo dire è stata una scommessa come ha detto il sindaco ma devo anche dire che noi 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 bibliotecari non avevamo alcun dubbio che avevamo tutte le avevamo quel quel quid in più per poter vincere e così è stato e noi siamo veramente orgogliosi di poter rendere questo omaggio al nostro scrittore così così sassarese io ringrazio tutti ma il mio ringraziamento non è formale ringrazio tutti i presenti e anche hanno voluto ricordare insieme questa il nostro scrittore sassarese è un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione non facile di questi tempi di questo evento che non è stato di semplice realizzazione potete immaginare grazie a tutti un grazie speciale anche a sante Maurizzi ad Antonello Grimaldi che ci hanno aiutato in questo in questa realizzazione grazie davvero salvatore salvatore mannuzzo è stato magistrato del tribunale di sassari dal 1955 al 1976 questo aspetto biografico è importante per capire la dinamica e i contenuti anche di procedura lui si sentiva un po' in gabbia nella magistratura di quel tempo tenete presente che a parte alcune rare eccezioni l'orientamento della magistratura sassarese di quegli anni era fortemente conservatrice un esempio è che la regge dei marci cipollas sui fiti rustici era stato proprio tribunale di sassari ad impugnarne la costituzionalità a proposito di una presunta limitazione del diritto proprietario sui fondi rurali in particolare su quelli destinati alla pasturizia lui è stato anche fondatore di magistratura democratica sassari quasi erano due iscritti e quindi anche questo aspetto del mondo giudiziario sassarese che traspare nelle pagine del romanzo in particolare il presidente del tribunale François che non è difficile individuare è un personaggio veramente esistito ha alto massiccio i capelli quasi rasati sempre andando in giro col suo boxer vi racconto un episodio del 1976 io allora ero dirigente del 18 partito comunista italiano e c'era l'idea di candidare un indipendente nelle liste per la Camera il primo tentativo fu fatto con Mario Brigaglia che però dopo molta esitazione rifiutò lui non sentiva la politica come un aspetto a lui congeniale diciamo così allora il segretario Salvatore Lorelli mi disse tu che lo conosci accompagnami andiamo a chiedere a lui se accetto siamo andati nella sua casa di Viale Mameli vicino a Piazza Purrino mi colpì soprattutto questa bella collezione di arte contemporanea che lui aveva fra cui uno di quelle litografie di Andy Warhol su Mary Monroe allora gli spieghiamo il partito intende fare un'apertura nei confronti del ceto civile e sassarese quindi abbiamo pensato a te come eventuale candidato nelle nostre liste come indipendente cosa ne pensi e lui senza un attimo di esitazione ha detto va bene accetto e infatti da allora è iniziata la sua carriera politica lui è stato eletto nella settima legislatura 76 79 rieletto nell'ottava 79 83 e infine nella nona 1983 87 quindi come vedete un po' questo ambiente della magistratura lui non si sentiva pienamente realizzato e procedura viene pubblicato nel 1988 quindi presumibilmente scritto dopo la sua esperienza politica in realtà Mannuzzo aveva scritto un romanzo pubblicato da Rizzoli nel 1962 intitolato Un doge affari spenti lui voleva chiamarlo Mariolino però gli editori gli diedero questo titolo che a mio avviso risulta molto efficace si svolge si svolge a tesi nel dopoguerra questo romanzo però venne pubblicato con lo pseudonimo Giuseppe Zuri perché lui riteneva che la sua carriera di magistrato non dovesse essere in qualche modo confusa con quella dello scrittore Antonio Piglia lo dedicò un saggio lunghissimo all'uscita del romanzo indicandolo come uno dei prodotti della nuova narrativa sarda allora tenete presente che il massimo esponente letterario della sarda di quegli anni era certamente Giuseppe De Sì con almeno quei tre romanzi che sono ancora oggi dei capolavori Michele Boschino il disertore un paese d'ombre quindi questo romanzo ne aveva già parlato Cristina ne parleranno gli altri relatori non voglio togliere tempo anche perché io non sono un esperto però c'è un un aspetto sarebbe impoverente considerarlo un romanzo poliziesco perché è un romanzo dove c'è diciamo tutta una riflessione sull'apparenza la giustizia l'ambiguità della vita gli aspetti multiformi però in qualche modo con procedura si inaugura un filone letterario del noir sardo indubbiamente quest'anno e un mese fa è venuto a mancare uno dei nostri più grandi scrittori anche un mio amico carissimo Giorgio Todde che proprio attraverso un personaggio realmente esistito il medico cagliaritano anatomista Efisio Marini che si era laureato a Pisa morirà a Napoli nel 1900 lo inventa come uno dei suoi protagonisti dei suoi romanzi noir qual è la caratteristica di Marini che lui pietrificava i cadaveri attraverso un processo che si è portato nella tomba però il cadavere cioè doveva essere appena deciduto quindi anche nel nostro museo anatomico dell'Università di Sassari c'è una mano di giovinetta pietrificata da lui che aveva regalato negli anni 70 e l'800 al comune di Sassari Todde chiaramente oggi questi romanzi non ha scritto solo chiaramente su Marini però è stato un filone che poi si è sviluppato con tutta una serie di altri scrittori fra cui il nostro relatore Gianni Caria autore di due romanzi l'abbadante di Budapest del 2019 e il presidente addormentato del 2018 indubbiamente l'idea che ha avuto Cristina Cugia di presentare questa domanda al Ministero dei Medi Culturali una città e un libro ha avuto successo perché in fondo Sassari questo si può dire il primo romanzo che ha per oggetto la nostra città a differenza un po' di numero dai romanzi da alcuni romanzi della Dereda sino soprattutto a quel capolavoro di Salvatore Sata il giorno del giudizio ha una tradizione e anche Caglia di percettivarsi e quindi in qualche modo questo romanzo diventa una città ipotetica riconoscibilissima ma mai identificata nel dettaglio io penso che a un anno di distanza dalla scomparsa di Totti il suo valore emerge nella sua grandezza sia come intellettuale come uomo politico lui è veramente ricordo era un deputato bravissimo non soltanto per gli argomenti che ha trattato nella alla Camera in particolare negli argomenti di diritto agrario dell'ordinamento penitenziario delle carceri ma ricordo anche che tante volte quando andavamo insieme a fare dei comizi lui stava a mezz'ora a prendere gli appunti di tutti i postulanti che c'era quello che voleva trasferire il figlio che faceva il servizio militare in Friuli a Macomere o quello che praticamente non gli arrivava la pensione tutti questi aspetti che anche proprio il deputato come rappresentante del territorio e anche un po' delle istanze oggettive anche materiali lui si faceva a carico di assolveri quindi penso che questa iniziativa del Comune di Sassari nel primo anniversario serva in qualche modo a mettere a fuoco questa grande personalità di questo grande sassarese vi ringrazio adesso la parola professora Aldo Maria Morace che è professore ordinario di storia della lettatura italiana nella facoltà di lettere dell'Università di Sassari non so come si chiami il dipartimento scusa ecco no a Morace si deve la laurea non riscausa che la facoltà ha voluto conferire a Tutti Manuzzo che poi si è concretizzata una bellissima prolusione che lui ha fatto sul tema di Giobbe prego Aldo nel 1988 Natalia Ginzburg non solo teneva a battesimo un'apparente opera prima procedura ma era stata e qua cito la testimonianza amicale proprio di Toti era stata lei a rinnovare il senso di una vocazione che Manuzzo aveva sin da quando appunto trent'anni prima aveva pubblicato come abbiamo sentito un doge a fare spenti ora non si è trattato di una ripulsa sdegnata alla satta o alla Italo Svevo ma Manuzzo riteneva inconciliabile il lavoro di giudice con quello di scrittore e quindi ha soffocato questa vocazione e merito di Natalia Ginzburg alla quale aveva dato appunto il manoscritto di questo suo ritorno alla narrativa è stato merito appunto della scrittrice averlo incoraggiato averlo riportato al senso della scrittura ora il problema è proprio questo del lavoro di giudice sarebbe quanto mai errato creare una sorta di distonia fra il lavoro del magistrato e il lavoro della scrittura e in questo cito ancora Manuzzo ecco il filo conduttore che unisce questa dimensione esperienziale va ricercato nelle coordinate del dubbio facendo il magistrato si impara a dubitare molto il giudice deve ascoltare molte voci e talvolta proprio da quelle più disparate nascono gli indizi per decrittare una storia il motore della ricerca narrativa di Manuzzo è dunque il dubbio ma il dubbio lo scrittore per riprendere una sua metafora ecco è cieco davanti all'enigma come Edipo e allora la scrittura serve appunto a ingaggiare una lotta sisyfea con questa crisi di senso e diviene meditazione profonda sulla contingenza umana e Manuzzo ha dato così espressione a un sentimento del tempo e della morte che francamente credo che non abbia uguali nella narrativa del secondo novecento italiano e neppure in questo primo ventennio e una Manuzzo come appunto nel lavoro di giudice usa la scrittura come una sorta di strumento per penetrare una verità che sfugge e allora la scrittura nel momento in cui dipana le sue lucidi spirali per cercare appunto di attingere la verità ecco in quel momento diventa invece corrosione di una notizia di verità e il le storie narrative di Manuzzo sono sempre molto costruite troppo lo rimproverava la Gainsbourg sino quasi a sembrare oppresse dalla superfettazione di una vita mentale che precede quella concreta e vera eppure questa scrittura potrebbe sembrare quasi povera a livello di architettura perché ha sempre un io narrante non c'è mai una terza persona o quasi mai nella narrativa di Manuzzo ecco ci sono tanti io parlanti e diceva appunto lo scrittore che lui ha bisogno sempre di inquadrare dalla prospettiva che qualcuno racconta possiamo da storico consentitemi della letteratura di dividere questa narrativa in due grandi momenti in due grandi fasi che sono separate un po' come discriminante dall'uscita di un libro di poesie Corpus che è del 97 ecco Manuzzo scrittore letteratissimo ha la reticenza come figura retorica prediletta e crea tutta una serie di simboli prevalentemente attinti alla suggestione del paesaggio sardo si diceva poco fa che appunto Sassari ha una vita nella geografia della letteratura italiana proprio perché c'è stato Totti Mannuzzo ma non solo pensiamo alle storie che sono ambientate a Bosa alla Sinara ecco e questa geografia serve a Mannuzzo per creare i suoi simboli poveri e grandi e allora la la Sardegna diviene come si come è stato detto per per Sciascia la Sardegna diviene la metafora del mondo così come per Sciascia la Sicilia ecco e qui operano i personaggi di questa ricerca della verità che sono al tempo stesso narratori testimoniali che sono personaggi giudici o investigatori e profondamente umani che abitano il mondo come una stanza d'albergo che sono tutti erosi o corrosi da una crisi interiore biografica privata si pensi per esempio al giudice di procedura che lascia alle sue spalle crolli separazioni che cerca la verità con una curiosità stanca e sfiduciata o ancora si pensi all'investigatore senza nome del terzo suono un investigatore mediocre che infuga da se stesso oppresso dalla solitudine dalla consapevolezza della propria nullità esistenziale e quindi corroso da un dubbio radicale sul fatto che si possa giungere alla verità ecco si parla tanto di effettivamente il bannuzio ha inventato insieme ad Angioni erano nell'88 il cosiddetto il nuovo giallo sardo però vorrei far riflettere su un aspetto strutturale di una importanza fondamentale Mannuzzo corrode sperimentalmente le tecniche del giallo nel senso che alla fine di solito l'investigatore trova la verità e questa è una verità rassicurante per la società nel caso di Salvatore Mannuzzo è esattamente l'opposto in un certo senso la fine del romanzo segna la delusione di questo orizzonte d'attesa e quindi ancora una volta è questo è questo dubbio radicale sulla ontologia sulla possibilità dell'uomo di conoscere ciò che rende a mio parere grande veramente grande la scrittura di Mannuzzo è proprio questo porsi di fronte a quelli che sono i grandi enigmi della vita quegli enigmi che ormai quasi nessun narratore ha il coraggio di affrontare e che invece Mannuzzo ha affrontato con una ricerca tormentosa ecco dall'88 a oggi scusate ieri purtroppo ecco questa ricerca di verità non ha mai avuto fine e quindi Mannuzzo risulta distonico rispetto ai canoni del genere fra l'altro ha scritto anche dei raccomanti splendidi penso per esempio a un capolavoro dedica e un capolavoro nell'ambito appunto della narrativa e dicevo che ci sono due grandi fasi nella narrativa di Mannuzzo uno appunto va da procedura fino alla alle ceneri del Montiferro alla figlia perduta e così via ecco e poi c'è in mezzo la poesia corpus il poeta in un certo senso è stato schiacciato dal narratore ma mi sono spesso posto il problema se Mannuzzo non avesse scritto i libri splendidi di narrativa che ha scritto ecco quale sarebbe stato il suo posto come poeta ecco Mannuzzo è stato un poeta fortemente sperimentale per intenderci si iscrive nel solco di Montale e di Eliot e la cosa strana nuova è questa che il registro della sua poesia è più basso rispetto a quello della prosa quindi una poesia che in altra occasione ho definito quasi a tonale proprio perché rompe gli schemi aulici ecco che hanno contraddistinto per troppi secoli la poesia italiana e naturalmente è stato un enorme intellettuale davvero dire che Mannuzzo ha avuto un respiro europeo è semplicemente un riconoscere la linfa che circolava nella sua opera credo di avere conosciuto pochissimi uomini così colti come Totti Mannuzzo era veramente affascinante poter dialogare con lui percorrere Sassari per lunghi chilometri parlando e dialogando appunto di questa febbre io scherzando lo chiamavo l'ibridinoso ecco per per questa voracità intellettuale proprio che lo contraddistingueva ma al tempo stesso che era capace di riversare in modo assolutamente nuovo nella sua narrativa narrativa che in ultimo è arrivata alle alle sentenze ultime quelle direi più difficili e anche più alte ci sono due grandi libri ultimi due grandi scritture e narrative che vorrei veramente invitare tutti a ripensare a rileggere le fate dell'inverno che è del 2004 e poi e poi e poi l'ultimo Snuff o l'arte di morire e qui in questi due esiti al solito ci sono i protagonisti dolenti in crisi esistenziale che tentano di rimuovere e di esorcizzare i ricordi è una quotidianità intristita che goccia ed è un tentativo di sopravvivere alla noia e all'angoscia e in questi due libri si sente proprio la meditazione di Mannuzzo sul senso della vita e sulla vita in rapporto al sacro di qui anche il mio grande amico Antonello Mattone ricordava poco fa un libro a mio parere sconvolgente che è Giobbe Giobbe è un libro che sta a sé stante è al di fuori dei canoni consueti è una riflessione quant'altri mai profonda io francamente non trovo corrispettivi nella nella prosa italiana per profondità e capacità di cogliere ecco il senso ultimo della interrogazione di fronte appunto ai perché che rimangono imposseduti e allora in queste due ultimi volumi splendidi penso veramente a queste fatte dell'inverno a questi simboli il pino tagliato di questo presidente di tribunale che tenta che lo che lo fa tagliare poi cerca di disseccarne le radici e che diventa il simbolo di che cosa della memoria ecco che vuole cancellare che vorrebbe cancellare ma che rinasce ecco con la sua carica di dolore e e qui davvero la scrittura diventa un modo di esorcizzare la morte e al tempo stesso di prepararsi alla morte ecco e qua ecco l'arte di morire Totti sapeva che questo sarebbe stato il suo ultimo suo ultimo romanzo e e qui veramente il rapporto religioso fra il finito e l'infinito fra il contingente e l'altra orbita tra l'oscurità dell'essere terreno e la luce ecco raggiunge veramente esiti a mio parere di una sconvolgente grandezza il è un si apre il volume il romanzo si apre sullo splendore della sinara c'è una barca c'è un barone universitario che ha che viene portato dal suo assistente dal suo allievo ecco e il e Piero il protagonista guarda questo paesaggio con lo sguardo umido di chissà che lo contempla per l'ultima volta e il Piero ha avuto poco prima negli anni precedenti una sorta di possibilità di vita un allieva che gli ha donato ecco l'ultimo barlume di vita e quindi il è un uomo che è pieno di crolli di frantumi di di morti ecco e Leonardo è testimone appunto di una condizione impoverita dolorante che è quella della vecchiaia stupendamente ritratta dal da Mannuzzo nel degradarsi degli ambienti ville disgregate mobili tarmati stilicidio di giorni inutili accumulo di piccole inutilità quotidiane che tentano in vano di rimuovere il vuoto dell'esistere ecco ma qui proprio dall'epicentro del dolore e del male scatta appunto l'interrogativo supremo Dio è necessario dentro un universo di cose superflue deve esserci e c'è nel suo silenzio senza risposte in questa che noi chiamiamo assenza perché non c'è altro modo per guarire dalla vita dalla disperazione dell'esistere se non percepirlo Dio in questo buio pesto quando la nostra sconfitta diventa totale e non c'è altro modo per guarire dalla vita non ho difficoltà a confessare di essere laico ma Manuzzo mi ha sempre come dire stregato con la sua capacità appunto di porsi di fronte a a questa dimensione dell'inconosciuto ecco credo che a Manuzzo tocchi toccherà lo statuto della classicità come come per Salvatore Satta Manuzzo è uno di quegli autori che adempiono magistralmente l'ufficio della letteratura come conoscenza suprema come modo di leggere il tempo e credo anche fortemente ne sono sicuro che sia anche uno dei pochi dei pochissimi cavallo fra i due secoli destinati a sopravvivere all'onda lunga del tempo grazie dopo questa bella relazione di Addo Morace adesso abbiamo in streaming l'intervento di Marco Manotta che è professore ordinario di storia della letteratura italiana contemporanea nella università di Sassani prego ringrazio e spero che la mia voce giunga sufficientemente chiara a tutti i convenuti che saluto con profondo rispetto al pubblico e agli amici proprio Antonello Mattone e Aldo Morace e dunque io desidero semplicemente approfittare di questa occasione per alcune riflessioni sulla scrittura di Manuzzo a partire magari dalla scrittura di Sassari e vedere come effettivamente Sassari può essere diventato oggetto di scrittura in Manuzzo allora io partirei dal ricordare quanto Manuzzo riflettendo proprio sulla natura dei toponimi che usava nelle sue opere giustamente teneva a distinguere il fatto che nessuno dei suoi toponimi fosse parente dei toponimi di Grazia quindi dei toponimi che non si rifanno e questo certamente ha contraddistinto la sua sardità del tutto originale che non si rifanno al sacro su connoto ecco quali sono i toponimi di Manuzzo sono toponimi che si rifanno a una geografia urbana una geografia micro urbana addirittura di inseguimento quasi della città o dei paesi frequentati fin nell'intreccio delle varie vie e dei vicoli ora però di fronte a questo sguardo che sembrerebbe quasi voler catturare la città il luogo bisogna ricordare quello che già la dottoressa Cugia ha avuto modo di segnalare facendosi proprio a una riflessione di Totem Nuzzo atopia e leggo perché ciò che mi fa scrivere è il rischio dell'atopia della perdita dei luoghi c'è differenza fra questo rischio e l'atopia totale la cosa che davvero mi preme mi preme mi angoscia è il logorio dei luoghi la loro progressiva perdita la casa che invecchia la casa che crolla il degradarsi delle cose sono correlativi oggettivi di altro allora io voglio provare in qualche modo a forzare ecco quali sono i mannuzzo è una geografia urbana una geografia nipana addirittura della città o dei paesi frequentati fino a più nell'intreccio delle varie ora però un sguardo che sembrerebbe la città il luogo già la dottoressa proprio ha una riflessia e leggo della perdita dei luoghi cosa che davvero mi preme mi progressiva la perdita da cose sono correlativi oggettivi in modo a forzare questo termine forzarlo riportando magari all'etimo originale possibile fonte in questo senso al convito platone atopos era ma Socrate quindi in quanto cabile cabile inteso non semplicemente sentirsi fuori di una scrittura che riesca a decifrare e fissare il luogo e allora questo mi porta a riflettere se e quanto Sassari effettivamente sia stata in qualche modo catturata dalla scrittura di Mannuzzo fra le cose che Mannuzzo ha scritto su Sassari riflettendo sulla sua tecnica di scrittura c'è un passo che vorrei ricordare e leggo è innegabile per esempio che a Sassari ci sono un viale capriera alberato di Tigli una piazza d'armi con querce ancora numerose però se li si riguarda bene se li si guarda bene piazza e viale non sono proprio quelli delle mie storie dove a dispetto della realtà viale capriera confina con piazza d'armi e per un tratto sale per un altro scende se e quanto Sassari di Fente sia stata in qualche modo Mannuzzo è quanto ricordare e leggo priera alberato di Tigli una piazza d'armi li guarda bene se li si guarda bene le storie dove a dispetto confina con piazza d'armi e per un tratto sale in realtà non coincidono perfettamente c'è una sorta di sfasatura mi viene in mente un bellissimo racconto di Italo Calvino in cui rifà il verso a Dumas e al conte di Monte Cristo in cui immagina che il prigioniero della fortezza tenti di trovare un possibile punto di fuga una volta che ha immaginato una fortezza tanto chiusa tanto perfetta da impedire possibili evasioni sovrapponendola a quella reale dice il protagonista nel momento in cui si trova lo scarto fra la fortezza immaginata e quella reale vuol dire che lì io avrò la possibilità di uscire finalmente e di fuggire ecco quindi forse nella scrittura di Madduzzo quando parla di Sassari c'è sempre questo scarto che è anche una sorta di punto di fuga ma per andare dove cosa c'è oltre la descrizione di Sassari oltre il toponimo beh ci sono anche altri toponimi per esempio nelle fate dell'inverno c'è un toponimo che è quello un luogo che è quello dell'Egitto quindi delle vacanze sognate di un momento di di eccellenza di godimento fuori dai traumi dalle convenzioni dal controllo sociale una sorta di locus amenus che si trova naturalmente lontanissimo da Sassari oppure un altro luogo altro locus amenus il beach world di cui sempre si parla all'interno delle fate dell'inverno quindi questa boccia di vetro che in maniera perfetta conclusa racchiude un paesaggio immobile sempre uguale e che regna nella calma più totale una sorta diciamo pure di paradiso senza Dio ecco ma questi sono due luoghi ipotetici di fuga la realtà è quella di una città che si deve confrontare con una scrittura quella di Mannuzzo che io direi è programmaticamente deputata a non riuscire a far presa quindi forse nella scrittura di Sassari c'è sempre questo scarto ma per andare dove la descrizione di Sassari oltre il toponimo per esempio il toponimo che è quello delle vacanze sono dieci domini dalle convenzioni dal controllo sociale è lontanissimo da Sassari il beach world di cui sempre di questa boccia di vetro che è un paesaggio immobile sempre uguale regna nella calma piuttosto e non scrivo se non scrivo non mi preme ecco ma tutti forse avrete riconosciuto quindi il processo del cogito cartesiano che porta all'evidenza assertoria delle io penso attraverso il processo del dubbio dubito dunque penso scrivo dunque penso allora cosa vuol dirci Mannuccio che sostanzialmente per lui scrivere vuol dire essenzialmente dubitare questo significa allora che lo scacco conoscitivo non arriva alla fine della scrittura ma è una sorta di punto di partenza è un limite precostituito una sorta di orizzonte pregiudiziale e allora come si fa a pensare attraverso una scrittura che necessariamente fin dall'inizio è costretta a confrontarsi col dubbio radicale in procedure che vi riporto io non scrivo se non scrivo non c'è quanto più mi preme allora delle io penso scrivo dunque dire il cacciatore di senso di significato che però il romanzo ce lo dimostra diventa in un certo momento il cacciato dal senso il cacciato dal significato in un morso di formica noi troviamo Piero Weiss che scrive un romanzo ma che collassa collassa perché si rende conto che viene contestato da un personaggio che vuole farsi autore del romanzo che sta scrivendo vale a dire dal nipote in un racconto come Nostalgia nel romanzo Il catalogo viene posta in dubbio la fidabilità del narratore la memoria che cede che non è più tanto sicura la stessa lusinga di prodursi in un'attività menzognera attraverso il racconto o ancora si può scommettere sulla scrittura come tentativo di rendere conto di una realtà complessa ma questa scommessa alla fine implode perché è la scrittura stessa che non riesce a far presa nel momento in cui si trova di fronte ad un legame che non è assolutamente cogente non è assolutamente necessario fra i fatti come accade nelle ceneri del Montiferro perché perché un fatto può essere niente di più che una combinazione fortuita di eventi e mi rifaccio in questo caso alle indagini di un altro giallo sui generis di Mannuzzo come il terzo suono ecco sembra di trovarsi di fronte a delle sentenze embricate dice Mannuzzo in Alice embricate prendendo questo termine dal linguaggio giuridico perché si sovrappongono cose diverse come nelle cosiddette sentenze embricate dove non è possibile di sti ci sono problemi sulla sua linea dal senso il cacciato dal significato in un morso di formica noi troviamo Piero Weiss che scrive un romanzo ma che collassa collassa per voler farsi autore del romanzo che sta scrivendo vale a dire il catalogo viene posta in dubbio la FECEDE che non è più tanto sicura la stessa attraverso il racconto può ancora prendere conto di una realtà complessa ma questa che non riesce a far presa nel modo urgente non è assolutamente necessario fra i fatti può essere niente di più che alle indagini di un altro già lo suggera di trovarsi di fronte a dice embricate prendendo questo termine dal linguaggio giuridico perché si sovrappongono cose diverse come nelle cosiddette sentenze embricate dove non è possibile distinguere fra vero e non può essere letta sto per chiudere facciamo presente un fenomeno di sovraesprica fotografica che non consente di distinguere un complesso di bianco insomma dove dice Mannuzzo ecco voglio chiudere se tutto può diventare il buio in cui qualcosa di inutile si intravede è il silenzio approdotto da un fastidioso insignificante rumore è un dio la cui presenza è impossibile non consente di distinguere in un complesso di bianco cesso di senso dove segno di tutto ecco ultima riflessione se tutto può diventare segno cristiano senza qualità come si definiva Salvatore si è giunto anche lì in sala grazie adesso la parola al dottor Gianni Caria procuratore della Repubblica del Tribunale di Sassani che interviene chiaramente pone più nella sua dimensione di letterato di magistrato a metà tra esercizio del diritto e quello della letteratura Buonasera 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 a tutti e a tutti con una vera emozione che mi trovo su questo palco a un anno dalla morte di Salvatore e Mannuzzo vorrei iniziare con un aneddoto così insomma anche un po' per estemperare una mia emozione personale ricordo che alcuni anni fa l'associazione nazionale magistrati aveva promosso un'assemblea verso la fine degli anni 90 per contrastare diciamo così certi progetti di riforma che venivano dall'allora maggioranza politica ed era stato invitato Salvatore Mannuzzo al tavolo della presidenza e il collega che presedeva come dire si rivolse a Mannuzzo con una frase forse non esattamente felice perché disse toti tu che sei uno scrittore di gialli chi è l'assassino della giustizia Mannuzzo fece un'espressione di disappunto chi conosceva la mimica facciale di Mannuzzo forse può anche immaginare che espressione fece e disse beh io veramente di giallo ne ho scritto uno forse uno e mezzo si tratta di capire se l'uno fosse procedura il mezzo il terzo suono o viceversa in realtà il mio intervento si riallaccia molto alla lontana a questi argomenti perché dovrei iniziare da quello che in realtà la sintesi la conclusione dell'intervento stesso ho ipotizzato che il romanzo procedura in realtà dovrebbe avere un altro titolo che potrebbe essere requiem di una procedura oppure forse con un'accezione diversa elegia di una procedura e cercherò di spiegarmi è una cosa nota che nei romanzi di Mannuzzo l'io narrante il narratore è spessissimo un giudice lo troviamo in procedura lo troviamo in tutti i racconti della figlia perduta lo troviamo anche in la ragazza perduta che è la riscrittura di dedica uno di questi racconti lo troviamo nel catalogo in Alice e nelle fate dell'inverno laddove l'io narrante non è un giudice è una figura diversa il morso di formica è uno scrittore il trezzo suono è un poliziotto ma come dice in maniera molto brillante Alessandro Cadoni nel suo saggio fondamentale il fantasma del seduttore che dovrei citare più volte mi limito a citarlo solo una volta in realtà si comporta l'io narrante esattamente come quel giudice che attraversa tutti i romanzi di Mannuzzo ci si potrebbe chiedere molto superficialmente come mai il protagonista narratore sia stato spesso un giudice potremmo anche per affrasare quello che Mannuzzo disse quando gli chiesero come mai nei suoi romanzi i suoi romanzi fossero ambientati tutti i luoghi che lui conosceva che amava che aveva frequentato in cui aveva vissuto anche se magari nei romanzi non sono indicati per nome cioè Sassari Stintino Bosa l'intero Montiferro Mannuzzo appunto disse un po' ironicamente scrivo di ciò che conosco potremmo forse dire potrebbe forse dirci oggi sempre ironicamente ho scritto dalla magistratura perché il mondo che conoscevo ma in realtà non ha mai scritto un romanzo con un'ambientazione politica se non molto alla lontana non ha mai scritto del mondo dei libri che pure abbondantemente frequentato nel corso della sua vita e quindi diciamo che sicuramente è qualcosa di diverso sta di fatto che dopo un Dodge Affari Spenti che è stata la sua prima opera letteraria e dopo Le Ceneri di Montiferro che è uscito dopo Procedura ma è stato scritto nella sua versione prima ben prima di Procedura perché risale agli anni Sessanta appunto troviamo sempre un giudice che ha questo compito dal narratore e quindi tutto inizia da procedura potremmo dire da questo punto di vista ma in Procedura c'è una particolarità che non c'è nei romanzi successivi e cioè è l'unico romanzo di Mannuzzo dove abbiamo un giudice in azione cioè nell'esercizio delle sue funzioni di giudice negli altri romanzi il narratore è sì un giudice si capisce che lo è come dire incidentalmente fa qualcosa da giudice scrive una sentenza a casa sua fa una ricerca di giurisprudenza ma non è come dire narrato nell'esercizio delle sue funzioni questo è successo soltanto con Procedura e dobbiamo però parlare di che tipo di giudice Mannuzzo parla in Procedura perché il giudice di cui parla è un giudice istruttore cioè un giudice che come dire in maniera non esattamente tecnica all'epoca faceva le indagini ma è un giudice che dal 24 ottobre del 1989 non esiste più perché in quella data è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale in cui appunto non esiste più la figura del giudice istruttore attualmente le indagini le fa solo il pubblico ministero all'epoca iniziava il pubblico ministero ma la palla passava rapidamente al giudice istruttore che sentiva testimoni interrogava imputati faceva sopraduoghi disponeva perizie e così via e che aveva anche come dire un potere piuttosto forte da esercitare con molto equilibrio perché ciò che lui faceva era già prova nel futuro processo mentre ciò che raccoglie il pubblico ministero adesso sono elementi di prova che poi forse diventeranno prova nel futuro processo il giudice istruttore era organico al tribunale nei tribunali c'era un ufficio istruzione e capitava esattamente come capita nel romanzo procedura che un giudice che faceva abitualmente civile venisse applicato per qualche esigenza all'ufficio istruzione nel romanzo succede perché l'unico giudice di fuori straniero come è stato ricordato cioè non sardo e che quindi non conosceva la vittima Valerio Garau che era appunto un collega né conosceva l'ambiente più di tanto se non superficialmente che stava attorno a questa vicenda ora questo giudice che aveva appunto questo potere così forte abbiamo detto è stato introdotto col nuovo codice di procedura penale e vorrei soffermermi un attimo su alcune date perché il nuovo codice di procedura penale nasce nel suo iter parlamentare con le proposte di legge che risalgono a 1984 ma con un dibattito che naturalmente va ancora più indietro la legge delega con cui poi appunto si delega il governo a emanare decreto legislativo è del 16 febbraio del 1987 il decreto il DPR che appunto diventa il testo di legge definitivo del 22 settembre 88 entra in vigore il 24 ottobre dell'89 confrontiamola con la carriera parlamentare di Mannuzzo che come è stato ricordato ha finito la sua ultima legislatura cioè la nona se non sbaglio il primo di luglio del 1987 ciò significa che Mannuzzo ha partecipato attivamente all'approvazione del nuovo codice di procedura penale e questo è del tutto ovvio non solo per la sua ovvia competenza in materia giuridica ma anche perché faceva parte della commissione giustizia poi è stato anche presidente della giunta delle autorizzazioni a procedere cioè un deputato particolarmente ascoltato nel campo appunto delle leggi che potevano interessare il comparto della giustizia ma poi nella cronaca parlamentare per esempio c'è un emendamento che è stato votato e approvato in cui lui era il primo firmatario e c'è anche un piccolo resoconto parlamentare stenografico del suo intervento a sostegno dell'emendamento quindi Manuzzo ha partecipato attivamente a questa approvazione e curiosamente procedura esce nell'88 e da una ricostruzione che credo che sia piuttosto condivisa sostanzialmente l'ha scritto fra l'87 e l'88 cioè ci troviamo uno scrittore che è consapevole di scrivere di una figura di giudice che fra poco poco dopo non esisterà più e allora io ho trovato questo un particolare veramente interessante perché viene spontaneo chiedersi come mai Manuzzo si fosse già rivolto sostanzialmente al passato per raccontare il mondo giudiziario proprio in un momento di enorme cambiamento che si stava profilando in realtà in tutta l'opera di Manuzzo e qualcuno parla anche del fatto che da procedura in poi è come se avesse scritto un unico romanzo in più capitoli non so se tutti condividono questa visione però è suggestiva ma comunque sia procedura è veramente un inizio un inizio di un percorso e comunque nel suo interesse che emerge in tutti i suoi romanzi c'è quello delle radici e della perdita delle radici c'è anche nel primo romanzo il dojo affari spenti c'è nelle ceneri di Montiferro c'è nella ricerca e rimpianto della perdita delle radici culturali sarde ma c'è anche un esame che per chi è sassarese è piuttosto come dire piuttosto che lo scusa piuttosto vivo e cioè una la perdita di un certo modo di essere della borghesia cittadina sassarese nell'accezione sassarese di quella borghesia che poi viene dai paesi e così via da famiglie ricche e così via che lui descrive con un certo come dire odore di decadenza un interesse vero quindi per le radici e per le ceneri che le radici hanno lasciato cioè per un qualcosa che non è più per un qualcosa di perduto che anche questo sappiamo è ragazza perduta figlia perduta è come dire una parola molto usata da Mannuzzo e allora per questo ho detto mi viene da dire che Mannuzzo abbia voluto come dire intonare un requiem per un mondo giudiziario che non c'è più per un mondo giudiziario in cui le cose si svolgevano in una maniera che da quel momento in poi sarebbe stata diversa perché il giudice che lui racconta in procedura è quello che viene definito il giudice inetto ma essenzialmente un giudice inadeguato cioè che usando abbastanza maldestramente gli strumenti che all'epoca il codice di procedura gli dava procede a tentone procede timidamente a paura di verbalizzare cose che riguardano la vita privata di Valerio Garau della sua amante Fiammetta Oppo e così via ha un pudore che lo disegna come una persona che non ha un obiettivo come dire diretto che è quello dell'accertamento della verità ma che si perde nel cercare per cercare tant'è vero che si trova essenzialmente non a indagare sulla morte di Valerio Garau ma si trova essenzialmente a indagare sulla vita di Valerio Garau questo capita nelle indagini omicidi ovviamente ma è molto evidente nel romanzo e da questo punto di vista è anche molto interessante che una parte intera del romanzo procedura è diviso se non ricordo male in quattro parti o in cinque se non ricordo è intitolato Atti relativi Atti relativi è un diretto riferimento a un tipo di fascicolo che esisteva all'epoca esiste anche oggi con una piccola differenza e che si apriva quando c'era un fatto che non si sapeva fosse reato o meno ma su cui valeva la pena indagare tipico una morte sospetta non si sa se Valerio Garau è morto per cause naturali per un fatto accidentale per suicidio o per omicidio però si inizia a indagare e si fanno i primi accertamenti si apre un fascicolo Atti relativi alla morte di Garau Valerio nel romanzo questo Atti relativi si trasforma subito in un diverso fascicolo cioè di un'indagine penale per omicidio a carico di ignoti ma è curioso che Mannuzio è ben titolato tutta una parte intera quasi un quarto un quinto del romanzo al termine Atti relativi e che vuol dire è abbastanza evidente che volesse sottolineare che in realtà ciò che poi emerge è ciò che c'è intorno cioè quella ricerca che non è che non punta a quell'obiettivo che è il sapere chi è l'assassino insomma la ricostruzione dei fatti ma ricostruire un ambiente una rete di relazioni ciò che è relativo potremmo dire che quel fascicolo appunto andrebbe intitolato non atti relativi alla morte di Garrao Valerio ma atti relativi alla vita di Garrao Valerio ora Mannuzio racconta quindi le ceneri di un sistema giudiziario che non c'è più perché da quel momento in poi ci sarà come dire il pubblico ministero con molta più dinamicità e con molte più come dire armi a sua disposizione seppure con un sistema attuale che è molto più garantista di quello di un tempo esistono anche le distorsioni di indagini così veloci così rapide perché ovviamente mi viene da pensare quanto sarebbe stato fuori luogo o meglio inadeguato il giudice istruttore di Mannuzio nella conferenza stampa che adesso magari da qualche parte si fa ogni volta che c'è un'indagine il giudice istruttore dell'epoca era un giudice tendenzialmente solitario ciò che succede dopo e che sicuramente Mannuzio aveva già intravisto nel 1988 è un modo di fare giustizia diverso migliore e peggiore non lo sappiamo ma sicuramente un modo di fare giustizia diverso e allora al di là del fatto che appunto soltanto in procedura troviamo un giudice nell'esercizio delle sue funzioni troviamo un'indagine vera e propria c'è qualcosa del genere in un po' parodistica in videogame che è un bellissimo racconto appunto della figlia perduta ma essenzialmente è soltanto in procedura e procedura come è noto si risolve casualmente non si risolve per la capacità investigativa del giudice narratore o per altro si risolve per caso secondo un insegnamento che in letteratura proviene già dagli anni 50 da un grande scrittore di noir come Friedrich Dürrematt che appunto con la promessa aveva inquadrato questo voglio dire questa distorsione del romanzo del romanzo noir romanzo di Dürrematt che tant'è vero esce nell'edizione italiana con il sottotitolo Requiem per il romanzo poliziesco e allora che cosa interessa a Mannuzzo perché poi nei romanzi successivi troviamo sempre come protagonista un giudice che non fa più le indagini ma che ha un procedere procedere procedura un procedere che è quello del giudice che faceva le indagini con gli stessi dubbi con le stesse incertezze con le stesse con le stesse inadeguatezze e allora è evidente che Mannuzzo l'interesse si è trasferito dalla ricerca ingabbiata in quella che è la procedura penale cioè nelle regole del processo penale a una ricerca successiva che non è ingabbiata nelle regole del codice di procedura penale ma è ingabbiata nelle regole della convivenza nelle regole sociali i protagonisti dei romanzi successivi hanno paura nel fare le domande hanno paura anche loro di come dire di avere risposte potremmo dire fra virgolette verbalizzate di avere risposte certe quando affrontano i legami affettivi le relazioni complesse è un tema che ovunque troviamo in Mannuzzo i rapporti sfilacciati di un morso di formica la ricerca dell'amore perduto figlia perduta che troviamo indedica o la ragazza perduta i rapporti affettivi tragici e superficiali di Alice il conto col tempo che passa nelle fate dell'inverno la domanda diretta viene sempre evitata a Mannuzzo non interessa arrivare a una conclusione interessa il procedere in sé in cui appunto il procedere diventa l'attuazione di regole di procedura che non sono più quelle scritte da una legge ma sono quelle di una società che inevitabilmente intravede nella sua decadenza ora questo andare prudente e attendista che ha segnato tutti i suoi romanzi appunto è incarnato nel giudice narratore o nello scrittore narratore o investigatore narratore di altri due romanzi ma è veramente significativo che quindi un giudice compaglia appunto in quasi tutti i romanzi di Mannuzzo compreso nel penultimo le fate dell'inverno compare in tutti tranne nell'ultimo in Snaff o l'arte di morire in cui il narratore non è più un giudice ma è un professore di anatomia in pensione ora Mannuzzo nel romanzo un morso di formica cita una famosa frase di Gramsci tratta dalle lettere dal carcere che dice il tempo è uno pseudonimo della vita fino a quando il tempo scorre insomma c'è il procedere c'è l'andare parafrasando potremmo dire che la procedura le regole del nostro procedere sono uno pseudonimo della ricerca del senso della vita però arriviamo all'ultimo romanzo dove non abbiamo più un giudice che procede una persona che va alla ricerca di qualcosa che non trova una ricerca assolutamente inadeguata abbiamo la vita che arriva sostanzialmente al suo punto conclusivo e allora non può essere più come dire governata dalle regole sterili di una procedura perché non c'è più niente che procedere la vita diventa statica alla fine quindi c'è un professore di anatomia un professore di anatomia ha la competenza per dissezionare una vita per fare l'autopsia una vita e non certo per descriverne un procedere che a quel punto si è sicuramente già arrestato grazie adesso la parola a Vanessa Rogeri scrittrice come sapete opinionista della Nuova Sardegna grazie buonasera a tutti prima di tutto voglio esprimere la mia gratitudine al professor Morace per l'invito mi ha offerto una preziosa opportunità di dare il mio contributo alla serata da autrice e da autrice posso dire che sono onorata di essere qui a rendere omaggio al ricordo di un grande scrittore di un maestro che con il proprio vissuto personale personale pubblico ha lasciato un solco profondo nella memoria collettiva dei suoi lettori e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo io purtroppo non ho avuto il privilegio di incontrarlo ma ho la sensazione che stasera non ci sia questo senso di lutto in qualche maniera Salvatore Mannuzzo è una presenza viva riflessa nelle parole di grande stima che ho sentito pronunciare dagli illustri presenti questa sera perché può esserci amicizia può esserci affetto per una persona che non c'è più ramarico per la sua perdita però mi sembra che più di tutto prevalga una sorta di debito morale nei suoi confronti che si mischia la grande ammirazione per un uomo dalle qualità fuori dal comune sottolineo la stima metto l'accento sul concetto di stima perché per me in molti casi può diventare addirittura più importante dell'amicizia perché è molto più difficile da ottenere la stima non si può fingere e non si può estorcere negli ultimi sette anni della mia vita da che ho iniziato la carriera di autrice ho sentito ripetermi molto spesso che faccio parte di una nuova generazione di scrittori ma io sinceramente non sono consapevole di questo è una sorta di attribuzione che arriva dall'esterno non ho mai pensato di poter far parte di un continuum letterario tra passato e presente non è qualcosa che mi sono prefissa quando ho iniziato a coltivare il sogno di una vita fatta di scrittura quando mi fanno notare che sulle spalle porto l'immensa eredità degli scrittori che mi hanno preceduta questo mi spinge fortemente a mettermi in discussione me stessa la mia scrittura a chiedermi se ne sono all'altezza perché è giusto non avere certezze in questo campo è giusto capire che il mestiere dello scrittore è un viaggio senza prodo è giusto capire che si scrive che non si scrive basta senza conseguenze ecco ovviamente mi sono domandata anche in cosa consista questa eredità ideale qual è il suo significato che significato e valore ha per me come giovane autrice devo dire che questo bisogna dire che posto che io sono figlia del mio tempo sono figlia di un momento in cui è cambiato fortemente l'approccio alla letteratura posto che la mia scrittura non attinge a canali di comunicazione che contemplano solo i libri ma anche altre fonti come il cinema la tv molti anni fa ho fatto mio un prezioso consiglio che poi è diventata chiave di volta nella mia esperienza impara dai più grandi e poi dimentica tutto e questo secondo me forse è l'unica via per riuscire a trovare una propria voce che sia autonoma credibile perché bisogna essere anche credibili è originale quando un lettore legge un libro di cui poi si innamora accade qualcosa di molto bello di meraviglioso direi il lettore è spinto dal bisogno di capire chi è l'autore vuole conoscerlo le presentazioni servono anche a soddisfare questo desiderio le presentazioni dei libri vuole carpire la personalità dell'autore attraverso le pagine scritte per vedere per constatare se c'è aderenza tra quello che l'autore scrive e l'autore stesso o meglio l'uomo e la donna che si nascondono dietro quelle parole scritte è un rapporto di fiducia implicito che non deve essere assolutamente tradito perché se il lettore constata che non c'è corrispondenza tra i sentimenti i risvolti morali o sociali che l'autore scrive l'autore stesso considererà senza possibilità di appello quel libro una truffa ecco in occasione di questo incontro ho riletto alcune delle opere di Salvatore Mannuzzo ho riletto Procedura perché anch'io sono prima di tutto lettrice uno scrittore non può scindere questa parte di sé lettore scrittore sarà contemporaneamente entrambe le cose e lo riletti in quest'ottica proprio col desiderio di capire attraverso la sua scrittura a chi era Salvatore Mannuzzo anche perché io non l'ho mai incontrato e questo desiderio è stato fortissimo per me e da questa personalissima indagine quello che ho capito è che Salvatore Mannuzzo aveva appunto capito che cos'è la vita che conosceva e accettava la natura la natura fragile fallace dell'essere umano sapeva raccontarla con pensiero colto sofisticato senza cedere alla tentazione del giudizio morale questa percezione ovvero dell'autore che ha una conoscenza superiore dell'esistenza appartiene solo ai grandi appartiene ai grandi autori di capolavori che leggi e rileggi e ogni volta è un'esperienza diversa perché la loro narrativa si compone a strati risvolti su risvolti infinite sfumature dense di significato che non puoi cogliere con una sola lettura sento e penso che Salvatore Mannuzzo avesse talmente sperimentato la vita in tutti i suoi aspetti che l'avesse così talmente compresa da fare una sorta di passo indietro nella sua narrativa questa è una mia suggestione magari sbaglio però io l'ho immaginato con la consapevolezza di chi non ha fretta perché ha visto già tutto quello che doveva vedere l'ho immaginato in una sorta di veranda ideale seduto ad osservare gli uomini che al di là della strada si affannano a ricomporre a risolvere le loro contraddizioni le piccole e grandi tragedie quotidiane Salvatore Mannuzzo ha narrato il male ha narrato il distacco repentino dagli affetti ha narrato la morte violenta ha narrato i dilemi morali e poi più di un'altra cosa quello che io ho percepito fortissimo la solitudine dell'essere umano sia nella nella propria giovinezza ma anche nell'ultima parte della vita durante la vecchiaia è così descritta in maniera talmente così efficace e familiare che non può essere una casualità le profondità la profondità che ha usato per descrivere certe sofferenze io credo che dovessero corrispondere per forza a determinate profondità nidate nel suo animo e allora in cosa consiste questa questa eredità tanto tanto ricercata le sue pagine sono indubbiamente delle lezioni di scrittura in cui l'autore non insegna ma dalle quali si può imparare tantissimo se si vuole non può ridursi comunque tutto tutto a un esempio eccelso di scrittura di strutturazione di frasi di uso personalizzato della punteggiatura non può essere solo questo a mio avviso e dunque l'insegnamento la lezione di Salvatore Mannuzzo che poi l'insegnamento dei grandi autori deve essere un altro la verità che qui prevale quasi in senso assoluto sulla procedura giusto per fare un riferimento penso sia questo il fatto che se tu non sai descrivere non sai raccontare la vita così come ha fatto lui con onestà e autenticità come autore non lascerai traccia di te passerai leggero sulla terra delle umane lettere è il solco che ti lascia alle spalle quel solco di cui ho parlato all'inizio profondissimo quello di Salvatore Mannuzzo quel solco che ti lascia alle spalle sarà talmente superficiale e insignificante da essere così spazzato via da un colpo di vento adesso c'è l'ultimo intervento di Marcello Fois in streaming intanto io ci tengo a stabilire una cosa che vorrei fosse chiara da subito al di là di qualunque tipo di celebrazione accademica o quant'altro e sarebbe che Salvatore Mannuzzo è uno dei più importanti intellettuali italiani europei oserei dire uno dei più importanti scrittori italiani europei ed è un credo probabilmente uno dei dei padri assoluti di quello che noi oggi ci vantiamo di considerare nuova nuova la nouvelle la nouvelle vague della scrittura in Sardegna molti sanno come la penso la scrittura in Sardegna non ha nuova vague è un lavoro sotterraneo o che hanno fatto degli autori straordinari e tra questi appunto e non secondariamente Salvatore o Totti per chi gli voleva bene poi in seconda in secondo luogo vorrei deprecare tutte quelle pubblicamente lo faccio vorrei deprecare tutte quelle persone che finché è stato in vita hanno in qualche modo goduto a alimentare diciamo così questa oscenità questa oscena leggenda sul suo conto intanto perché Totti è sempre stato forse una delle persone più generose con cui ho avuto a che fare mi freggio di essere un suo amico antico e di non essere per questo caduto nel baratro di chissà quali sventure quindi veramente se ci fosse qualcuno di questi presente in questa sala io lo invito ad alzarsi e ad andarsene una volta per tutte certe sciocchezze possono fare molto male specialmente a persone che hanno una sensibilità speciale che sono meravigliosamente delicate ecco come era Totti negli ultimi mesi ci siamo sentiti abbastanza spesso perché stando io a Bologna e lui a Sassari era difficile che ci vedessimo però ogni volta tutte le volte che io venivo a Sassari poi avevo come dire il lascia passare ero autorizzato ad andarlo a trovare e ci siamo visti l'ultima volta in clinica poi ci siamo sentiti in seguito quando era stato trasferito diciamo nell'altra struttura e l'ultima telefonata che io e lui ci siamo fatti credo che sia una che sia la testimonianza di quello che io posso definire il potere immenso della poetica di Totti io lo chiamai lui mi rispose riconosceva il numero e gli chiesi come stai stamattina come vai Totti e lui mi rispose sono troppo infelice ecco sono troppo infelice credo che sia la misura la misura proprio dell' dell'incredibile rovello dell'incredibile ricerca anche dell'incredibile stanchezza che che l'ha che l'ha colto negli ultimi tempi della sua vita è stato un autore di ricerca è stato un autore che che non si è vergognato di di entrare in luoghi assolutamente oscuri era tanto discreto nella vita quanto impudico quando scriveva era era veramente strana questa 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 ambiguità no per cui dai suoi nei suoi scritti c'era sempre tantissimo si 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 riveleva tutto un universo che invece lui nella vita non manifestava in assoluto o e c'era rigore c'era rigore c'era studio c'era difficoltà di di pensare il suo mestiere come come un dato così relativo oppure semplicemente palliativo per lui la scrittura era era un dolore era una fatica mi ricordo che lo invitai perché stavamo facendo un progetto a proposito delle delle quando ci fu l'alluvione in Sardegna Einaudi io coordinai un progetto einaudiano che si chiamava Sei per la Sardegna in cui i sei autori di Einaudi appunto sardi si mettevano insieme in una piccola in una piccola antologia che poi venne venduta e stra venduta per beneficenza e per per aiutare in particolare il paese di Bitti che era stato veramente distrutto dall'alluvione bene e lui sotto certi aspetti era contento di essere invitato a questi a questi progetti però contemporaneamente anche mi accusava di coinvolgerlo sempre troppo in queste faccende che per lui erano problematiche perché poi doveva capire che cosa andasse scritto e doveva ricorreggere quello che aveva scritto e poi e poi io gli dicevo ma scusa Totti hai almeno un mese e lui dice un mese un mese è pochissimo io ho bisogno di più tempo devo elaborare devo capire e così via per cui la prima risposta era sempre no poi puntualmente due giorni dopo mi chiamava e mi diceva sai che c'è ma no mi dispiace non farti contento non è bella sta cosa allora ho pensato che riguardo una cosa che avevo già fatta non è molto bello insomma perché uno dovrebbe in qualche modo elaborare delle cose nuove ma io ho detto no non devi elaborare niente di nuovo questo è un contributo che serve per un'altra cosa anzi se ti dà l'occasione di rivedere una cosa che hai fatto per carità rivedere le cose che ho fatto è tutto bruttissimo quello che ho fatto tutti era questo io ce l'ho in mente proprio così e ci accomunava molto questo sentimento devo dire di inadeguatezza cioè di non essere mai contenti di quello che eravamo riusciti in qualche modo a fare o tenere lui è stato uno dei miei lettori privilegiati lui per me ha si è addirittura è venuto persino a presentarlo il mio libro io so benissimo quanto questa cosa di costasse ma la scomparsa la scomparsa di Totti come dire mi ha aiutato a capire che la letteratura qualche volta può farti compagnia ecco io io di tanto in tanto prendo procedura ho un morso di formica e lo cerco in mezzo a queste righe cerco di cerco la figlia perduta cerco di ricordare che voce avesse come come ne parlava come ogni volta ne dibattevamo e mi dice sto scrivendo sta cosa ma non cammina è bella è brutta insomma questo io mi auguro che Sassari si renda conto del del patrimonio che ha a disposizione del patrimonio intellettuale del patrimonio umano che ha a disposizione perché l'unica rivincita diciamo che che Totti può prendersi in questo momento è quello di dichiararvi che i grandi scrittori non muoiono mai e quindi lui non è affatto morto tutti noi Sardi in conclusione dovremmo in qualche modo ragionare di questo periodo di questo piccolo baratro che ha generato la scomparsa di almeno tre intellettuali importantissimi per la Sardegna con Giulio Angioni Salvatore Mannuzzo appunto e recentemente Giorgio Todd non è una non è un'assenza da poco non è un un baratro da poco io spero che che noi siamo in grado di 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 fare almeno la metà del lavoro che hanno fatto queste stupende persone Salvatore in testa grazie grazie bello Marcello chiude diciamo questa parte l'ultima parte è dedicata a Salvatore Mannuzzo che ci regala un libro nuovo io adesso se i nostri amici riescono a mandarci la dia voi forse l'avete visto all'ingresso è arrivato oggi nelle migliori librerie di Sassari cioè tutte Polvere d'oro che è un libro non postumo per un banale motivo legato a un festeggiamento Aldo Maria vieni qui non fuggire dove vai vieni qui io sei dieci anni fa proprio in questa sala Toti compiva 80 anni e contemporaneamente la facoltà di la vecchia facoltà di Magistero compiva 40 anni dalla sua istituzione e quindi con Aldo Maria Morace ci venne in mente di fare una cosa e cioè di far cacciare fuori dal cassetto a Toti tre radiodrammi che lui aveva scritto negli anni 90 pubblicarli in una edizione non venale come si dice dell'università e riuscimo anche a mettere in scena uno di questi radiodrammi in una forma come si dice di mise en scene sonora solo sonora ovviamente con Daniela Cossiga che è qui Ilaria Tucci che è finita in Norvegia e io ho un ricordo spero e credo anche tu Aldo Maria di grande affetto perché poi l'uomo era molto ritroso come sapete per cui insomma una festa di compleanno così particolare forse neanche se l'aspettava e so e quel ricordo noi l'abbiamo ottenuto anche in questi anni spesso e per una strana combinazione astrale succede che un valente editore che è collegato con noi per Ronzani Beppe Cantele ci siamo incrociati grazie a Paolo Carta che è un valentissimo docente di dottrine politiche all'università di Trento e che non è qui con noi perché in questo momento è a San Francisco a fare una bella relazione infatti abbiamo deciso che lo puniamo quanto prima ciao Beppe sei con noi ti sentiamo guarda adesso proviamo proviamo un attimo intanto a risolvere il problema di audio tu ogni tanto fai un verso perché ancora non ti sentiamo ma se tu ogni tanto ci provi prova a vedere se hai attivato la tua il tuo audio da lì comunque tu ci riesci va bene vado un attimo avanti tu adesso prova a fare qualcosa secondo me ti sei eliminato l'audio l'editore Ronzani ha accolto questa idea di pubblicare a un anno dalla scomparsa in quello che sarebbe stato l'anno del novantesimo compagno di Totti questi questi radiodrammi che come sapete non hanno una è qualcosa che ha circolato nell'editoria italiana quando l'editoria italiana era un'industria di un certo tipo e c'era un pubblico di un certo tipo che tra l'altro è mancato anche per i radiodrammi nel senso che non si fanno non si fanno più Beppe prova a fare un verso io vi sento benissimo voi mi sentite? sì adesso sì adesso sì adesso sì grazie grazie mille sante grazie a tutti grazie per le belle parole che hai già dacci il tuo contributo Beppe che poi tocca parlare al Don Maria Morace che ci massacra con la sua sapienza invece noi siamo operai della cultura nella vigna della cultura facciamo anche i libri adesso vai sì grazie mi piace moltissimo questa idea di essere operai della cultura perché io io lo ripeto lo ripeto molto spesso mi sentite? sì sì ti sentiamo ecco dicevo che lo ripeto molto spesso insomma se non si vuole che la cultura sia solamente un qualche cosa per gente che non sa come passare il tempo ma si vuole che diventi una professione che sia sempre una professione intellettuale come dire guardata con rispetto molto di più di quello che si fa nel nostro paese bisogna anche che ci siano i lavoratori della cultura Giulio Einaudi al quale io molto 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 modestamente ispiro tutte le cose che la Ronzani Lettrice fa diceva che l'intellettuale moderno deve saper pensare e lavorare con le mani ecco magari noi siamo un po' più bravi con le mani ma cerchiamo comunque sempre di tenere insieme queste due cose anche nel fare libri e prima di ascoltare Morace io davvero volevo dire due parole su questo libro intanto per ringraziare te che ne sei il curatore e sei la persona che lo ha reso possibile poi hai giustamente ricordato Paolo Carta e anche io lo voglio ringraziare Paolo è un vostro illustre concittadino io l'ho conosciuto quando è venuto a fare il suo primo dottorato di ricerca all'università di Trento dove io mi trovavo come studente di quella facoltà di giurisprudenza poi ho intrapreso la mia carriera di avvocato e ancora svolgo questa professione però da cinque anni abbiamo deciso di fare anche qualche cosa d'altro e cioè i libri non è sufficiente a volte come dire quello che si fa si intende si preferisce esprimersi in qualche altro modo però questo è uno dei primi motivi che mi che mi mi legano mi rendono simpatico Salvatore Mannuzzo che è stato un illustre giurista è stato un esponente politico molto importante prima di diventare o forse di di esprimere quello che lui era cioè un grande scrittore grazie quindi Sante per aver reso possibile questo libro noi abbiamo accolto con molta gioia l'idea l'idea di farlo perché perché è un testo davvero importante davvero significativo come ha scritto molto bene in questa in questa bandella il nostro direttore editoriale che è Franco Zabagli del gabinetto VSE di Firenze Mannuzzo riprende in mano certi elementi ordinari del teatro borghese infedeltà coniugali conflitti con i figli le disgrazie che impongono di misurarsi col mistero del vivere e li colluca in una Sardegna quasi astratta connotata poco più che dai suoi stessi toponimi o da una semplice suggestione di cielo e mare come presenze indeterminate e primordiali che amplificano il vuoto dove i personaggi agiscono e il silenzio dove si perderanno le loro parole ecco è una bellissima presentazione di questi tre radiodrammi che sono davvero bellissimi da leggere come se fossero un romanzo è chiaro che il genere letterario non è molto in voga nemmeno tra gli editori però a noi piacciono anche queste sfide soprattutto quando ci si trova di fronte a dei testi di sicuro valore insomma ecco come peraltro attestato dalla bellissima introduzione che ne fa Goffredo Forfi ma di tutto questo immagino che poi parlerete molto meglio di me io volevo solo spendere le ultime due parole prima di cedervi la parola proprio sulla fattura materiale di questo libro ecco è un po' è un po' quello che noi intendiamo fare col nostro progetto editoriale cercare di curarli nella scelta della carta dei caratteri nella legatura insomma questo è un libro rilegato con una bella sovraccoperta con una carta uso mano che è bellissima anche da toccare è concepito per durare insomma ecco il pensiero di un grande letterato e le parole di un grande letterato devono poter durare e noi crediamo che un libro fatto bene serva non solo per farle durare ma anche per rendere onore nel migliore dei modi all'autore che questa sera si celebra e si ricorda a un anno dalla sua scomparsa ecco fare dei libri belli aiuta anche ad avvicinarsi all'oggetto libro aiuta a come dire ad apprezzare queste cose che oramai non si vedono quasi più perché il mondo va veloce bisogna risparmiare bisogna risparmiare sulla carta bisogna risparmiare sul tempo ecco noi nonostante che si sia arrivati come ricordavi tu proprio stamattina all'ultimo secondo nelle librerie di Sassari e ne approfitto per salutare l'amico Aldo Addis che è poi il regista della libreria sassarese che ospita anche i nostri libri ecco nonostante che si sia arrivati all'ultimo momento si è lavorato con la calma la pazienza la cura la meticolosità che si ritiene si debba avere di fronte a un testo specialmente di fronte a un testo importante come quello che questa sera si presenta ecco io non ho altro da dire spero solo che lo appreziate e che possa come dire essere acquistato da molti innanzitutto per leggere questi bellissimi radiodrammi di Salvatore Mannuzzo grazie ancora a te Sante per questa bellissima opportunità e buona serata io sto ad ascoltare quello che ci dirà adesso grazie grazie Beppe ti tocca anche un applauso allora tenete conto che tenete conto che ci siamo visti con Beppe in questi mesi solo in questa maniera perché ovviamente eravamo tutti confinati ma in uno di questi collegamenti per ragionare un po' su questo libro dall'accento avete capito che non è esattamente del Campidano e ha avuto l'ardire nell'entusiasmo di questa operazione e poi venite tutti su nell'altopiano di Asiago da me che abbiamo dei buonissimi formaggi ora io ho provato a fargli capire che dire ai sardi che ci sono formaggi buoni nell'altopiano di Asiago non è esattamente una grandissima idea però il prossimo appuntamento sarà sicuramente dal vivo con una sfida gastronomica per assaggiare i formaggi va bene è una bella è una bella sfida ecco ma sono molti altri i motivi che legano storicamente la vostra isola al mio altopiano e voi li sapete li conoscete insomma ecco hanno trovato purtroppo disavventure molti giovani della brigata Sassari che noi ancora ricordiamo in altopiano di Asiago perché quella è stata la terra della prima linea nella prima guerra mondiale alcuni ritengono che abbia fatto l'Italia io credo che sia come tutte le guerre un enorme disastro però quella terra ci lega alla Sardegna proprio per queste circostanze storiche che mi piace sempre ricordare grazie Aldo Maria facciamoci questa piccola chiacchierata finale beh come non ricordare che l'altopiano di Asiago è indissolubilmente legato alla memoria di Emilio Lusso e di quel capolavoro che è un anno sull'altipiano grazie non volevo citarlo io ma è un libro meraviglioso al quale siamo tutti molto affezionati ecco devo dire che veramente quanto ho ascoltato è comomente perché sembra quasi una sorta di retroversione temporale per cui noi andiamo ai tempi in cui l'editoria era passione era compartecipazione era dialogo fra autore e editore ecco solo un editore appassionato e non mercificato ecco poteva accogliere questo invito e tornare a ripubblicare questo testo che come ricordava Sante ha avuto una genesi un po' particolare mi limito quindi in questa sede a ricordare questo background allora ero preside quando esistevano le facoltà ero preside della facoltà di lettere che festeggiava fra facoltà di lettere e prima facoltà di magistero i suoi 40 anni nell'ambito di una manifestazione nutrita importante ecco naturalmente non poteva mancare il toti mannuzzo a cui mi onoro di aver dato la laurea onoris causa che lui veramente ha apprezzato moltissimo che ha amato moltissimo perché lo sentiva anche come una sorta di compensazione che la città e in genere l'università insolare dava a quest'autore poco fa avete sentito che ho preciso dal mio essere stato profondamente amico di toti ho cercato di inquadrare storicamente la sua opera in un certo senso facendo una sorta di opera quasi asettica ecco da tutto ciò che è stato il rapporto umano profondissimo che ho avuto e nell'ambito di questo rapporto appunto quando abbiamo festeggiato questi 40 anni naturalmente non poteva mancare toti e in quell'occasione ecco dissi ma toti vorremmo fare qualcosa per quello che io ho sempre definito il maggiore scrittore sardo vivente allora e lui mi disse sai dice io ho dei radiodrammi ma è difficile pubblicarli perché è un genere letterario che nessuno frequenta ovviamente gli editori non vogliono investire in questo tipo di genere letterario e disse io guarda te lo pubblico io te lo pubblico in edizione naturalmente non venale e toti ci ha tenuto moltissimo mi ricordo la cura estrema con cui ha licenziato il testo sono per chi ovviamente non può avere notizie sono tre radiodrammi la cometa sabbia nere la mesh bianca in particolare vorrei fermarmi un secondo solo perché comprendo che la serata ormai voglia il suo termine ma vorrei invitarvi a riflettere sugli strani percorsi che talvolta si instaurano fra un testo e l'altro fra una dimensione e l'altra il secondo sabbia nere prefigura proprio snaf o l'arte di morire solo che nel caso del radiodramma ovviamente si sviluppa soprattutto l'intreccio la dimensione del rapporto fra i personaggi c'è un c'è un personaggio protagonista che è un professore appunto di anatomia come ho detto poco fa la sua vita è tutta piena di crolli fra l'altro si attacca a una sorta di culto dei tappeti antichi ecco ma quello che poi il grande tema del romanzo cioè la senescenza il rapporto con la morte ecco tutto questo è condensato nelle pagine finali nei momenti finali ecco e poi campeggia questa figura che è una delle a mio parere delle più felici delle che Toti abbia tracciato e cioè quello di Nadia ecco una ragazza che attraversa letti diversi ecco ovunque dando il senso della sua grazia nel romanzo questa figura assume una caratura molto diversa in sintonia appunto con questo che è il percorso verso la morte del professore di anatomia ecco è un interscambio fra generi che mi pare estremamente interessante ma inviterei davvero tutti a leggere questi tre drammi radiodrammi che sono tre gioielli io proprio oggi ho voluto rileggerli e ancora una volta la magia fatturante della scrittura di Toti Mannuzzo ha colpito ecco in termini borghesi in trecce amorosi o adulterini ecco ma tutto questo non farebbe altro che immiserire quella che è invece il sostrato profondo della scrittura di Toti che è sempre stata uguale a se stessa e cioè la ricerca di una verità che poi sfugga non toglie nulla ecco alla direi alla grandezza di questo sforzo alla capacità di ogni volta porsi di nuovo in lotta con quelli che sono i limiti ecco della della conoscenza umana della della dimensione esistenziale non mi fa davvero ombra l'essere stato così profondamente amico di Toti che fra l'altro ha voluto donare alla allora alla facoltà di lettere ora al dipartimento di studi umanistici tutto ciò che rimaneva dei suoi autografi dei suoi dattiloscritti che sono confluiti nel fondo autografi scrittori sardi che io ho creato negli anni scorsi ecco dicevo questa dimensione amicale non inficia assolutamente la la caratura del giudizio che ho dato e cioè quello di un grande autore di un grande intellettuale destinato davvero a resistere all'onda del tempo ecco se c'è un autore su cui scommetto è tutto il mannuzzo grazie 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 capito che uno ti viene da ringraziare molto velocemente e felicemente soprattutto per questa cura se vi capita di prendere quel libro vi accorgete che avete un oggetto in mano come non se ne fanno più e questa cosa per noi che amiamo i libri è molto importante però volevo ringraziare Maria Mannuzzo che stasera non è potuta essere con noi per malanni di stagione che capitano quando arrivano queste piccole giornate di sbalzi Costantino Cossu Goffredo Fofi che come avete sentito scrive la prefazione e poi Giannella De Muro e Antonello Freso che hanno fatto da ponte per l'immagine di copertina ora non so se riesci a mandarla di nuovo ecco qua la copertina questa è un'opera di Aldo Contini che era molto amico di tutti erano molto amici hanno fatto come si può dire dentro i CNUSA anche del gruppo di CNUSA tra gli anni 50 e 60 tanti pezzi di strade assieme e quindi grazie a Antonello Freso e a Giannella De Muro siamo arrivati a e possiamo anche ringraziare Gabriella Contini che ci ha consentito di riunire questi due amici in questa in questa forma io sono grato anche a Marcello Fuis perché ha detto una cosa molto importante ha parlato di generosità che se uno davvero dovesse riassumere il carattere di Salvatore Mannuzzo per noi tutti era la generosità e provate a ripassare quanti sensi possibili può avere la generosità tutti assolutamente tutti anche nei confronti di chi lo aveva bullizzato perché c'è stata una parte non piccola di questa città come ha meravigliosamente detto Marcello che si è divertita per anni anni a trattarlo da iettatore da menagramo quello che a casa si dice pindaccio ignoranti gretti cattivi come questa città riesce a essere splendidamente quando vuole se dico che ne soffriva Totti ma che era meglio di tutti loro messi assieme già gli stiamo togliendo qualcosa a Totti ma la sua generosità era veramente oltre qualunque cosa e allora mi piace lasciarci con un atto che feci di generosità ormai tanti anni fa nel 2005 qualche anno dopo che era uscito Corpus lo convincemmo a sostenerci in un percorso fra le sue poesie di reading con delle musiche originali e lui presentò in quella serata perché si divertì divertire è una cosa in corsivo ecco tutti che si divertono è una cosa molto particolare però si divertì a leggere alcune poesie lui fra cui un'ultima che chiudeva lo spettacolo e che adesso vi facciamo sentire e che io qualche mese fa quando c'è stata una prima commemorazione non sono riuscito a far sentire perché mi si disse che era una cosa triste e secondo me non è vero per niente la poesia si intitola A Die ma sentite come la dice lui e sentite anche le musiche che lui concordò con i musicisti perché disse io su questa cosa ci vedrei una fanfara una cosa circense e ci lasciamo così se ci togli anche queste luci schifose davanti se ci butti queste due luci e ci fai sentire tutti ce ne andiamo con la voce di tutti grazie grazie non c'è nulla da dire se il cielo sta per finire se il mare si cancella e ogni altra cosa bella addio mesamù addio mio amore perduti splendori framontati destini non ci sono più mattini non ci sono più sere addio estati autunni primavere è passata la festa si smonta ogni storia tutto ciò che resta è una vuota memoria uno spento sentire non ciò che non l'abbiamo a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.